con Simone Lupo Bagnacani. Sì, buongiorno. Sono passati ormai 11 anni da quando è stato trovato il primo caso ufficiale di punteruolo rosso in Sardegna. Una specie aliena arrivata dall'Africa che ha colpito duramente le palme in tutta l'isola. Sono quasi tutti i comuni, sono stati colpiti da questa che è una vera e propria piaga con migliaia di piante abbattute negli ultimi anni. Noi siamo venuti qui all'Orto Botanico dell'Università di Cagliari perché è una delle istituzioni che più ha subito all'inizio questo fenomeno e adesso è in prima linea per combatterlo. Siamo con Gianluigi Bacchetta che è il direttore. A che punto è questa battaglia contro questo coleottero che mangia le palme? È una battaglia infinita che stiamo cercando di combattere con mezzi diversi rispetto ai mezzi chimici che abbiamo utilizzato inizialmente sia con endo che esoterapia grazie appunto a dei prodotti a base di larve di nematodi che in questo caso nell'essere biologici non hanno anche ripercussioni sulla salute pubblica. Utilizziamo questi sistemi per cercare di combattere il punteruolo rosso anche se va specificato che in questo caso esternamente all'Orto l'attacco proviene da tante altre aree e nonostante il Comune si sia impegnato notevolmente negli ultimi anni i privati non hanno risorse e capacità di agire per contrastare la piaga e quindi siamo soggetti costantemente a degli attacchi e costretti a fare dei trattamenti periodici di cui abbiamo aumentato la cadenza da due mensilità a una mensilità quindi 12 trattamenti annui che in questo caso ci riescono comunque a tutelare congiuntamente alla chirurgia arborea che noi realizziamo su quegli individui che sono fortemente compromessi. Quindi tagliare gli alberi per cercare di eliminare il parassita ma quindi il problema principale sono le risorse per combattere questa battaglia? Sono le risorse e allo stesso tempo anche il personale qualificato. Grazie a questo personale del nostro Ateneo noi siamo in grado oggi autonomamente di realizzare i trattamenti e di agire in questo caso sufficientemente. In molte altre situazioni, specialmente nei piccoli comuni della Sardegna, non ci sono queste professionalità e le strutture tecniche non sono adeguate. Oggi proprio qui all'Orto Botanico stanno facendo questi trattamenti con dei metodi innovativi perché sono arrivati dalla Spagna anche perché sono studiosi di tutta Europa e anche dell'Africa, del bacino del Mediterraneo che lavorano su questo problema. Con noi c'è anche Gianluca Iriti che è il coordinatore tecnico dell'Orto Botanico. Come procede questo lavoro? Come si fa nel concreto? Nel concreto vengono presi i nematodi che ricordiamo sono delle larve che parassitano il punterolo rosso sia la larva che l'adulto e quindi lo portano alla morte. Questi nematodi vengono mescolati con un liquido applicatore e con l'acqua. Quindi con questa soluzione che viene creata, dentro una cisterna sono tutte le attrezzature organizzate e realizzate dai giardinieri dell'Orto Botanico, vengono fatte e viene errorata a ciascuna palma e bisogna garantire a ciascuna palma circa almeno 20-25 litri di questa soluzione. Quindi è un lavoro complesso e vedo anche degli strumenti particolari che hai stato utilizzato per farlo. Sì, sì, chiaramente dobbiamo utilizzare delle piattaforme elevatrici per arrivare, ci sono palme che raggiungono anche 14-15 metri d'altezza, delle cannule per arrivare al cuore della palma. È importante che questa docetta venga fatta proprio nel cuore della palma, proprio per contrastare il punteruolo, che la larva va proprio nelle parti più tenere e distrugge proprio il cuore della palma, quindi porta poi a morte la palma. Questo è un problema enorme anche perché nelle nostre strade le palme che vengono abbandonate morte sono a rischio fortemente di caduta, è successo già molte volte durante le tempeste di Maestrale, palme che cadevano sulle macchine e portando anche rischio per i passanti. Si tratta quindi di un problema che va affrontato in modo molto serio ed efficace, bisogna supportare anche i privati nell'affrontare questo problema perché le spese sono ingenti e i rischi sono anche maggiori, sia per i privati che anche per i cittadini che passano ad esempio vicino a un giardino. Per il momento è tutto, vi aggiorneremo sulle novità di questa battaglia.